Manifesto della meteofonia Interpretare in piena libertà il tempo ed il suono in una sintesi ritmica che produce energia Il tuono, il vento, la pioggia contengono nella loro essenza una metrica musicale che ognuno di noi può interpretare con la propria sensibilità L'estro, la creatività dell'artista il suo portato culturale e musicale compone scenari meteofonici che disegnano nuove avanguardie sinfoniche proporre o introdursi ed entrare a far parte di questi disegni musicali nel tempo e del tempo spinge verso la riflessione universale Godetene tutti! Godetene! Godetene! Grazie a tutti